Il Natale è nel sorriso dei bambini e nel colore dei loro occhi. È questo uno dei tanti messaggi di pace indirizzati al Gesù Bambino Africano dagli studenti della Scuola Maria Immacolata di Bustrasizio. I loro biglietti circondano la statua nera del bambinello che si potrà ammirare fino all'Epifania nella chiesetta di fronte al municipio di Busto. A rinnovare quella che ormai è diventata una tradizione cittadina iniziata dal compianto benemerito a Angioletto Castiglioni nel suo ultimo Natale sono stati i giovani della sezione provinciale Varesina della Junior Chamber International insieme agli amici del tempietto civico e all'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Isabella Tovaglieri durante la cerimonia della posa della statua nella culla della Sacra Rappresentazione. Dopodiché i bimbi sono stati protagonisti anche dell'iniziativa promossa dal Comitato Commercianti del Centro con Comune, Ascom e Distretto Urbano del Commercio. La manifestazione ha coinvolto 400 piccoli delle materne e delle primarie nell'iniziativa Disegna il tuo Natale. Le creazioni dei piccoli artisti sono state in seguito plastificate dando origine ad una vera e propria decorazione natalizia ed esposte da 50 negozi che hanno aderito al progetto. E così come in una piccola caccia al tesoro presentandosi nel negozio che espone la loro opera i piccoli hanno anche trovato un dono.